Noi sono notti live qui e davanti a guardare per le nostre nuove missioni che noi abbiamo creato in quella che ha chiesto l'etica sull'fraudio. Come ha detto a guardare e cercare una donna. La donna dice che qui c'è tesso il candidato. Non so se ci annunziamo, è scritto anche se non deve segnare. Tu non hai guardato il ciasco? Ma voglio! Non puoi aiutare, ma... Non so se ci annunziamo, non so se ci annunziamo. Qui sono il ciasco spettatore. Noi sono qui il candidato della nostra nuova missione. Vuol dire forse il nome di Quintaro di Dall, C'è 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 C'è. C'è 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 C La strategia o... La acqua funziona, tutto bene. C'è una strada. E la notte? Però questa è una storia storia. Però quella è una farbun in cui... Ossi... C'è fessi no... C'è fessi no... C'è fessi no... C'è fessi no... C'è già visto che tu vessi? C'è fessi no... 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 Però può essere una blonda o una nera. E quello può neri dire. Appunto... Forza flotta vicino cinese... Però c'è essere... E allora... Iniziamo a fare la prossima emissione. Ah... Ossi... Quali preferenze di lingua? Grandezza? Oh... 80 anni e 60 anni e 70 anni... Lingua è romanzo... Se non è possibile... Se c'è qualcosa... Non lo sai... E... Ah... Un po' inceminare forza... Qua o là... Però appunto... Forza quella che si deve sapere... La notte... Il suono di ciasi... Sono per la solita ciasi... E sono ora qui... Sul letto... O stessi lei... Forza... Mi raccontate la notte... Forza una... Ci non ha teme del stiur... Ah... E pui spi... E dici cosa che ti dici... Noi... Noi... Per un tempo... Noi... Non so letto... Si dici... E fissi flautino... C'è un po' incemino... Ma... Se potrebbe essere mirare più bai... Noi... E allora... C'è un po' incemino... Si vedi interesse... Non metteremo... L'adressa... Potreste annunzare... Però... Qui viene il primo... Mai... Noi... Noi... L'adressa... De mille... E allora... E noi... E noi... E noi... Sassi... Che stavano? Si si si... Non! Che stavano ti... E noi... Perciò... Tipto... Andrea? Inoltre... Forse... E noi... Ma sai no... E casper... Inoltre... Ma... 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 Io di un... Dosente... Oltre di... Nix... 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 Non c'è nessuno. Non c'è nessuno, ma ero in casa un flotto, più gentile come fare più buoni luoghi sulle vagine, però appunto l'esempio davvero proprio, forse ero prima o tre anni flotta in storia. Però tiptop l'ho riuscita a andare in un studio a Torrice e si voleva andare a vedere su YouTube o Facebook, e la gente qui è partire qui su Facebook, in una città in una sola. Grazie a Vici per l'attenzione. Hanno la camera? Forse potremmo fare una prossima emissione. Ciacciate noi per cercare una donna. Se noi ci vediamo qua, oh? C'è vai se studiare? E ne ci così in una bella? Ma ma già credo non studiare. 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 Ciaccio ciò. Cliccio ciò. La verità più azale. Grazie a tutti